ciao ragazzi iscrivetevi al canale mettete un mi piace video così magari mi supportate un po va andiamo avanti con questo questo canale di joe award bari pisa il giorno dopo 0 a 0 per me diciamo che un punto è sempre importante cioè meglio di zero ovviamente se ci aspettavano tutte la vittoria ma anche oggi non è arrivata siamo comunque terzi stiamo facendo molto meglio di tante altre squadre il nostro obiettivo detto sin dall'inizio della società e la salvezza invece siamo terzi meglio di squadroni che veramente hanno speso tantissimi soldi e sulla carta dovrebbero andare subito in a ok siamo comunque all'inizio non è ancora finito cioè deve ancora finire il girone di andata ma andiamo avanti così tante critiche per me al momento non ci sono ci saranno stati sicuramente errori di di mignani sì non solo ieri in generale le avrà fatti sicuramente però ricordiamoci che anche per lui la prima esperienza in b e ad oggi non li possiamo comunque dire nulla ricordiamoci anche da dove siamo venuti che non l'anno scorso eravamo in c quest'anno in b mignani prima esperienza in b e sta facendo ciò che sta facendo non dimentichiamoci questo molti che lo criticano ripeto degli errori li sta facendo ma non si può dire ancora nulla e poi vi dico una cosa questo signor mignani per me farà una carriera importante ricordatevi queste parole farà una carriera importante salvatevi questo video che voglio vedere poi dove arriverà a mignani ciao